Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 12 gennaio. Mercato italiano. Prezzi ancora in aumento per l'olio extravergine di oliva sui mercati all'origine, con una media che supera i 9,60 euro. Sempre elevato l'interesse per gli acquisti, anche se ci troviamo di fronte a un mercato contrassegnato da nervosismo per la limitata disponibilità di prodotto, non solo in Italia, ma in tutto l'areale del Mediterraneo. Sulle maggiori piazze italiane i valori massimi si rilevano a Chieti-Pescara e Ragusa 10,50 euro, Perugia 10,40 euro, Trapani 10,30 euro, Enna, Bari e Bitonto a 9,60 euro e a scendere Brindisi, Lecce, Taranto e Catanzaro a 9,30 euro. Per quanto riguarda le quotazioni del prodotto a denominazioni DOP e IGP, è da segnalare che non seguono il trend di aumento dell'extravergine A significare le difficoltà di acquisto da parte dei consumatori che tendono a contenere le spese al carrello. Tra le DOP spiccano il Chianti-Classico e il Garda-Orientale, a 16 euro-chilo, e il Veneto-Valpolicella a 15,50 euro-chilo. La media dei prezzi all'origine per i prodotti DOP e IGP risulta quindi essere di 11,56 euro-chilo. Mercati esteri Le quotazioni si mantengono elevate con un prezzo medio di 8,56 euro-chilo. La Spagna cerca di mantenere costante le forniture, anche se notevolmente in difficoltà, per la diminuita disponibilità di prodotto. Come si evince dal grafico, i valori maggiori si registrano in Portogallo, 9 euro-chilo, a seguire Spagna e Grecia con un prezzo di 8,90 euro, Marocco 8,60 euro, Tunisia 8,50 euro, Algeria e Turchia 8 euro, e infine Egitto a 7,80 euro-chilo. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana.